grande picchio allora adesso in questo gioco che ho già finito perché la storia l'ho finita ho finito la storia però ho tutte le missioni secondarie voglio andare a conquistare questa casermina questa casermina qui da fighetti e io che adesso sono 37 di potenza faccio dei gran culi con la mia spada questa spada che prende fuoco sono cattivo madonna mia vieni vieni pagliocetto cos'è dai mo picchio questo li piantiamo tac ma non l'ho preso cattivo cattivo che sei c'è un altro ristoranzetti devo vedere di prendere due cose lì c'è un pupas un pupassino trick faccio un altro clown piano piano furtivamente come ci insegna borsari poi però questo è solo che è quello da espugnare è là dentro quatti quatti abbiamo depredare il tesoro e uccidere il capitano non c'è un cazzo che a volte i tesori picchio non sono dentro sono tipo fuori te giri come una stronza dentro e invece solo cazzi duri ma fatti i cazzi tuoi tu baracchino tooo maialone non era proprio brutto questo l'hai sentito tutto qua cosa c'è? niente vieni a vedere qua sotto che a volte ci sono delle sorprese c'è un cazzo qua vieni 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 sciocchino vieni vieni andati dal dopo sole treni anche te pupassetto quello lì non me ne frega allora qua c'è uno che dorme e gli facciamo lo scherzetto qua dove eravamo prima andiamo su se agli ha le scale facciamo stronzetto facciamo stronzetto cosa fa? legge? topolino? assa di merda quello è il capitano il capitano dove dormiva però il tesoro ha solo cazzi duri dovrebbe esserci uno scrigno o qualcosa porca troia quindi facciamo lo scherzetto della trappola così quando vengono a chiamare rinforzi mi scoppia nel culo prendiamo questo cos'è? un vaso? questo me lo faccio lascialo sto vasetto coglione qua sei vabbè dove sei? pupazzetto no ti fa male il ginocchio vai da scaramaglio a fare due taker ah no no sembrava e invece non lo è porca troia cazzo l'ha messo lì la sorpresa l'ha rotta nel culo lì qua ci sono dei soldi fanculo andiamo a vedere al piano di sopra dove ci vado io lì su quella lì dove ci arrivo eh ma non c'è un cazzo chiariamo guarda guarda picchi guarda toc nella coppa la merda la merda peluche diciamo un gran salto di cazzo dai va là che sei un minorato mentale prendi le scale fai una cosa lineare la tua vita eh ma qua qua la puttana se qui c'era il capitano di merda qua non c'è un marone qua c'è la sedia di quel frocio del capitano scendiamo le scale vaffanculo la che cazzo c'è eh un passaggio questo cos'è hai visto hai visto hai visto picchio dov'è qua dobbiamo liberare sti coglioni qui apri qua non c'è nessuno lì non c'è nessuno questo chi è un marocchino questo è già morto questo è uno che non conta un cazzo ti apro vieni fuori popat questo me ne frega c'è l'egistiano basta che ti ti ricavi dai maroni te oh pazzo quindi andiamo va questa roba l'abbiamo fatta nel nostro personalissimo ma cos'è uno che mi vuole inculare è uno stalker che roba mi segue ma là era stato un pelato brutto scappa 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 piccolato in cula mi neanche so beh è ancora qua cazzo vuoi ma fate fate per una vita ma state l'egistiano ma state c'è aiuma ecco ancora qua cacciate una smitragliata l'egistiano social ragazzi che due è una smitragliata Grazie a tutti.